E' bello a tutti ragazzi, io sono cd17 e oggi vi do il bel prossimo episodio di fortnite Allora ragazzi, bentornati su questo titolo 5, 6 ottobre, 7 ottobre, 5 ottobre E poi ragazzi, vi faccio le due news del 5 ottobre E poi ragazzi, vi lascio Sulla versione rapida 5 ottobre Di fort, la versione 18.10 Le doppie cacciatrici dei golem scendono in campo in battaglia reale 5 ottobre 21 Dal team di fortnite Se sei da queste parti già da un po' Sai che questa guerra dei cubi non è la prima volta che i moni del cubo hanno mostrato le loro facce Ma se ti ricordi Una certa arma da tiro antimostro La ballestra del cacciatore di fiere E non me la ricordo comunque Ok Bene Con l'ultima soluzione rapida Abbiamo qualcosa ancora più Bello Antimostro Parla della riscosta con le doppie cacciatrici dei golem E allora ragazzi, questo qui Io non so veramente il perché Ti hanno messo queste cose qua Perché mancano ancora tanto a Halloween Quindi potevamo aspettare ancora un po' Comunque Doppie cacciatrici dei golem Combatti i demoni più velocemente E così ti avventuri nel più diverso per ottenere qualche Qualche Arma del più diverso Come la ballestra del cacciatore di fiere Le doppie cacciatrici dei golem Fingono danni extra ai mostri del cubo Ma ecco dove cambiano le cose Essendo più moderne Gli Ma ecco Cioè italiano ragazzi Ma è che cambiano le cose Essendo più moderne Gli cacciatrici Vabbè Hanno una cadenza di fuoco più rapida rispetto alla vecchia ballestra Dove posso trovarli? Le doppie cacciatrici dei golem si trovano nei forsepe e per terra Portali con te nel viceverso per cambiare le sorti della situazione a tuo favore Ah un'altra cosa Anche te e Anche te e le cacciatrici ricordano una certa festa di Halloween Note sulle competizioni Le doppie cacciatrici dei golem non sono inclusi nelle felici competizioni Allora adesso vediamo questa news qua Del 5 ottobre Forte l'incubo 2021 Cosa c'è nel tuo destino? Forte l'incubo 2021 Prevede mostri classici Caos al cubo e incubi su schermo 5-10-21 Il team di Fortnite Il destino ha inserbo molto inutile in Fortnite L'incubo di quest'anno fino al 1 novembre Ti aspetta una molte sorprese La prima sorpresa delle tue carte A partire da adesso potrai saltare dentro a mappe Ciò che è l'esperienza di Halloween Tutte le carte dalla community per call out di Fortnite L'incubo Saranno in evidenza nella sezione Fortnite L'incubo Delle mie nuove list Ecco cos'altro ha inserbo il tuo destino questo mese Nemici, creature e costumi inconfondibili Forte l'incubo 2021 Offerà molti costumi di Halloween Vecchi e nuovi Cosa può aspettarti? Nel corso del mese le carte rileveranno modi legendari Che si faranno stare nel negozio oggetti di Fortnite Inoltre i casi personaggi di Fortnite Verranno rivisitati a tema Halloween Con ogni debutto nel negozio oggetti Questa è una carta in questa pagina in evoluzione Che non so se mi tiene trasporta No Che vedrete dopo il coso della carta Guarda la carta per scoprire chi sbarcherà nel negozio oggetti Ed è un'occhiata alle carte dove scelte per scoprire inizio sul prossimo arrivo Vuoi qualche anticipo? Tra le creature classiche troviamo personaggi ispirati al mondo Universal Pictures Il mostro di Frankenstein e la mummia Entrambi all'interno dei sette mostri Universal Tieni d'occhio la pagina delle carte e i nostri canali social media Per scoprire chi entrerà nel negozio oggetti In cerchi di un modo per tornare negli inferi nel corso del mese la mummia Sarà anche in agguato come personaggio sull'isola Cosa rileveranno le carte durante Forte dell'Incubo? Per dare il via all'evento I boxi e i boxer ispirati alla community Si trovano negli soggetti ora il 5 ottobre Con le nuove versioni luminose degli stili spettrali alternativi Inoltre per tutto il mese di ottobre Potrà rileverare il busto della battaglia E i cosplay dei personaggi di Fortnite A Universal City Walk Accanto ai Universal Studios Hollywood Nel corso del mese arriveranno vari personaggi Con apparizioni speciali dei nuovi personaggi di Forte dell'Incubo Nel giorno in cui saranno disponibili nel negozio oggetti Fra uno salto e scatta una foto Un nuovo volato del piano dei cubi I cubi si stanno mobilitando per la prossima fase del loro piano Nel corso del mese rafforzeranno il loro dominio sull'isola Ma niente paura Una nuova arma di viceversa E le sorprese di Halloween saranno qui per motivarti Una mar speciale farà il suo ritorno Quale sarà? Durante questo caso cubico ci saranno anche degli incarichi da realizzare per ricompense spettrali Parlando di sorprese di Halloween Le nuove doppie cacciatrici dei golen ora sull'isola Che se clicco questo Così io clicco ma sarà del 5 ottobre Che è quello che avevo letto prima Primi di volontà con corti da incubo Forte l'Incubo 2021 si chiuderà con la terza edizione del festival Notte dei Corti Come per le edizioni precedenti del Notte dei Corti Corti da incubo sarà caratterizzato da cortometaggi animati Questa volta però i corti avranno temi macrabi E spettrali Inoltre questa edizione di Notte dei Corti si svolgerà in un cinema Regalizzato da un creatore Quantum Builds In cui ogni cortometaggio avrà la propria sala Scegli in quale ordine guardarli Oppure guardarli tutti di seguito nella sala del festival Maggiore dettaglio in arrivo su corti da cui incubo con la vicinanza del festival Consideralo un biglietto di invito Quello che abbiamo annunciato non è tutto Quello che abbiamo annunciato non è tutto Ecco quindi Ci sono altre cose Perché non è tutto quello che c'era in fortnet L'incubo di quest'anno Resta in ascolto nel corso del mese per scoprire gli altri eventi in arrivo per te Allora ragazzi Io mi fermo qua perché Sennò ci siamo mezz'ora a leggere anche le altre news Perché Cinque La prossima volta la giro è quella del 6 ottobre E poi la prossima è quella del 7 ottobre Comunque ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto ragazzi Mi ha conosciuto un bel Mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Azzatevi alla campanella Commentate Il prossimo A mio canale Seguite su Instagram Che ho c'è da CT17 YZ Oficial Ragazzi Un bacione Nel vostro CT17 Tutto Bene ragazzori Ciao Ciao